piega destra sinistra 4 100 per sinistra 4 per sinistra 3 in destra 2 per sinistra 4 in destra 2 per sinistra 2 attenzione sinistra 1 per destra 4 5 50 destra 1 in sinistra 1 20 sinistra 3 due volte meno 50 tornante destro 100 destra 3 50 destra 3 in sinistra 4 per sinistra 4 per sinistra 4 tonda sinistra 4 tonda piega destra in sinistra 2 20 destra 2 gira 20 sinistra 4 attenzione tornante sinistro per tornantone destro piega sinistra piega sinistra piega sinistra attenzione destra 2 intornante sinistro 2 intornante sinistro vai 100 chicane ingresso a destra chicane ingresso a destra e sinistra 2 100 sinistra 2 gira 20 sinistra 3 in destra 2 sinistra 3 in destra 2 piega sinistra 30 destra 2 in destra destra sinistra 4 50 attenzione salto 50 attenzione salto 50 destra 3 50 chicane ingresso a sinistra iniziamo il secondo giro 20 sinistra 3 vai 100 per sinistra 4 per sinistra 3 in destra 2 per sinistra 2 attenzione sinistra 1 per destra 4 50 destra 1 e sinistra 1 20 sinistra 3 2 volte meno 50 tornante destro vai 100 destra 3 50 destra 3 in sinistra 4 per sinistra 4 tonda tra 3 in sinistra 4 per sinistra 4 tonda piega destra in sinistra 2 20 destra 2 gira 20 sinistra 4 attenzione tornante sinistro attenzione tornante sinistro su tornantone destro piega sinistra attenzione destra 2 intornante sinistro sinistra 2 100 ingresso chicane a destra e sinistra 2 vai 100 sinistra 2 gira 20 sinistra 3 in destra 2 sinistra 3 in destra 2 piega sinistra 30 destra 2 in sinistra 4 in destra sinistra 4 50 attenzione salto 50 per destra 3 50 chicane ingresso a sinistra 20 iniziamo il terzo giro sinistra 3 100 sinistra 4 per sinistra 3 sinistra 4 per sinistra 3 in destra 2 per sinistra 2 attenzione sinistra 1 per sinistra 4 4 4 50 destra 1 e sinistra 1 20 sinistra 3 2 volte meno 50 tornante destro 100 100 destra 3 50 destra 3 in sinistra 4 destra 3 in sinistra 4 per sinistra 4 tonda piega destra in sinistra 2 20 destra 2 gira 20 sinistra 4 attenzione attenzione tornante sinistra 4 per tornantone destro piega sinistra attenzione destra 2 in sinistra 2 in tornante sinistro scusa 100 chicane ingresso a sinistra a destra a destra e sinistra 2 100 sinistra 2 gira 20 sinistra 3 in destra 2 sinistra 3 in destra 2 piega sinistra 30 destra 2 in destra e sinistra 4 50 attenzione salto 50 destra 3 50 chicane ingresso a sinistra ultimo giro 1820 metri insomma 20 sinistra 3 vai 100 per sinistra 4 per sinistra 3 in destra 2 per sinistra 2 attenzione sinistra 1 per destra 4 50 destra 1 e sinistra 1 destra 1 e sinistra 1 20 sinistra 3 due volte meno 50 tornante destro gomme? si 100 destra 3 hai te la scivolata dentro a te 50 destra 3 sinistra 4 per sinistra 4 tonda piega destra in sinistra 2 visto? destra 2 gira 20 sinistra 4 attenzione tornante sinistro mamma che buche per tornantone per tornantone destro per tornantone destro questa buzza è questa piega sinistra tornantone destro piega sinistra attenzione destra 2 intornante sinistro dai 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 100 chicano ingresso a destra la sa marcia la scappata no sa stuola non torna e sinistra 2 100 sinistra 2 gira stiamo uscendo no mi? 20 sinistra 3 in destra 2 sinistra 3 in destra 2 piega sinistra 30 destra 2 in destra sinistra 4 50 salto attenzione 50 per destra 3 gira fine destra 3 gira fine ottimo e le fotocellere resti bello 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 marco chiuso destra marco chiuso si vado avanti avanti dov'è? avanti qui sempre in dritto ah di qua ok da qua agito cioè se io sapevo dove era ma tu da me che vuoi? ho spaccato specchietto penso che steel imola i no ustax salimol salir ieee s che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa?